mi senti no? vedi io sono sulla pagina di Amazon vado su l'iconcine questo, tasto sinistro gli dico cattura area selezionata, diventa tutto grigino però vedi il mouse lo metto qua sul 70% sulla scritta 70 sconti fino a 70 il mouse diventa una X una croce io tenendo il tasto sinistro premuto senza lasciarlo crea una finestra di quello che voglio fare lo screenshot, quando rilascio mi compare questa finestrina con capture qua basta che clicchi sopra e lui mi cattura questa porzione mi ha catturato questa parte con gli strumenti qui in alto posso addirittura o scriverci sopra per aggiungerci testo modificarlo, o posso per esempio disegnarci per evidenziare quello che mi interessa o creare delle frecce posso lavorarci come voglio quando ho finito premi su done fatto qua e gli dico salva salva immagine come file qui su questo bottone save lui te lo salva automaticamente a te sul dextro se no scelgo io dove sul dextro salva salvato qua quindi ti basta uscire fuori per esempio vedi questo è il mio amazon mi fa vedere quello che ho salvato adesso la porzione così vedi questa con i miei cerchi le mie annotazioni e via dicendo puoi salvare delle piccole parti come adesso esco dall'immagine come puoi dirgli di salvare l'intera pagina quando hai fatto qui vabbè puoi chiudere la finestra vedi sono sempre su questa vai su qua tasto sinistro posso dirgli cattura intera pagina vedi lui me la cattura me la sta salvando poi gli dico fatto ok done qua done e gli dici salva immagine come file salva qua gli dico sul dextro dove voglio e via vabbè lui mi dice che esiste già quel file lo sostituisco si se io chiudo e torno fuori vedrai che la mia pagina vedi lui mi ha salvato addirittura tutta la pagina vedi è grande tutta la pagina facebook e scusa di amazon quindi tutta la pagina del sito quindi tu puoi salvare o delle piccole porzioni ritagliando o l'intero 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 contenuto vedi allora tasto sinistro capture selected area quindi questa posso prendere vedi questo pezzo qua diventa più bianco tac quando lascio mi compaiono i tasti capture o cancella capture qua gli dico cattura gli dico done fatto e salva qua salva come immagine scelgo dove sul desktop gli do il nome che voglio io al file per dire salva ok se torno sul desktop qui ho il mio file vedi che ho appena creato la mia striscia posso poi scriverci sopra direttamente o no come ti ho fatto vedere prova a vedere se va e mi fai sapere ciao